E' cresciuto col sogno di indossare la maglia della sua città ed è un giovane nisseno di belle speranze. Enrico Mancuso, classe 2005, difensore centrale all'occorrenza anche esterno-basso, è dunque da oggi un nuovo giocatore della Nissa. Ha cominciato con la CL Calcio, poi Nissa e San Cataldese Under-19 e di recente la Turris, sia Under-19 che Primavera. Mancuso ha avuto tante richieste ma il cuore lo ha spinto ad indossare la maglia biancoscudata. Oggi il primo allenamento agli ordini di Alessio Sferrazza che riprendono dopo la sconvitta bruciante di domenica scorsa nel derby contro l'Agragas. C'è ancora molta delusione in casa Nissa per una sconvitta avvenuta nei minuti di recupero e dove la squadra non ha demeritato contro l'attuale capolista. Ma adesso bisogna pensare al presente, alla partita di sabato prossimo in trasferta sul campo della Parmonval. Non un incontro facile per i biancoscudati che nelle ultime due sfide hanno visto ridimensionati i loro sogni di play-off con due sconvitte e zero gol segnati. Partita delicata per gli uomini di Alessio Sferrazza che dovranno cercare di uscire dalla trasferta palermitana con i tre punti, per eliminare le tossine e per alimentare quei sogni di grandezza che la società si augura nel prossimo futuro.